. Niente maratona d'Italia! L'8 ottobre non si corre a Carpi . L'8 ottobre non si corre a Carpi. Scompare una storica maratona italiana. Sarebbe stata la 30 edizione. . La notizia non è ancora stata confermata ufficialmente dell'ufficio stampa dell'evento, ma le iscrizioni alla Maratona d'Italia di Carpi sono state sospese, sintomo che le voci di un probabile annullamento che si rincorrevano da diverse settimane, se non mesi, erano veritiere. . L'8 ottobre dunque la gara che partiva in fronte alla Galleria del Vento Ferrari di Maranello e da sempre arrivava nella splendida piazza di Carpi non si svolgerà, lasciando un vuoto non indifferente nel panorama nazionale dell'atletica leggera. . Quest'anno inoltre sarebbe stata un'edizione straordinaria perché coincideva con il trentesimo anniversario, ma così non sarà, troppe le difficoltà economiche e anche burocratiche venutesi a creare in questi ultimi anni che hanno portato questa storica maratona inventata da Ivano Barbolini e in questi anni portata avanti dalla figlia cristiana a dover rinunciare. . . Grandi fasti soprattutto negli anni 90 e nel decennio successivo, con la diretta Rai di tre ore, con grandi campioni, con una folta partecipazione, ma i tempi cambiano e la maratona di Carpi non è riuscita in questi ultimi anni a rinnovarsi e a rimanere un'attrattiva importante per i maratoneti. . . . . . .